Sul deleghe della procura distrettuale della Repubblica di Catania, i carabinieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito con il supporto dei reparti specializzati dell'arma siciliana delle misure cautelari personali nei confronti di 17 soggetti ritenuti gravemente indiziati a vario titolo di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti turbata libertà degli incanti con l'aggravante del metodo mafioso e corruzione L'indagine ha consentito di mettere in evidenza gli interessi del clan Morabito-Rapisarda di Paternò sul controllo capillare e sistematico delle asse giudiziarie eventi ad oggetto degli immobili Il clan agiva per il tramite dei propri appartenenti con condotte anche intimidatorie che tendevano ad allontanare gli eventuali offerenti o interessati all'immobile oggetto della gara d'asta Il suo talissimo mafioso era altresì dedito al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti Nel corso delle investigazioni sono stati infatti sequestrati circa 71 kg di marijuana e cocaina ed arrestati 8 soggetti in flagranza di reato